Musica Ma Bernabéi su uno contro uno Allora in qualche modo arriva Coloredo che poi è bravissima nel girarsi Questa ragazza ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi due anni Ma non è nell'angolo, vai in elevazione Luisella Poda Pallonetto, delizioso di Poda Gol bellissimo ma anche molto pubblicato Dispizziamo ancora Barboso, il pallone dentro Arpiona, tutto quello che passa dalle sue parti Eleonora Coloredo, calamita nelle mani Bene, intanto entra Giorgia Di Pietro dalla panchina Si fa subito votare con questa ottima pinta di sotto mano Poi risale e va Fino ad ora Coloredo e però quando il pallone arriva lì è bravissima a girarsi Ha una sensibilità Scarico dietro la schiena Bambo e la rete Azione fantastica Quella Briggs & Schutti-Roll La finale più attesa Da una parte la Jovi Salerno Dall'altra i Briggs & Schutti-Roll Sono loro le finaliste che si contenderanno La Coppa Italia 2022